L'evento del quale voglio parlarvi oggi è di una portata talmente rilevante e densa che non so neanche se riuscirò a trasferirvelo con la sufficiente intensità. Ci sono eventi che consideriamo di interesse planetario, una vittoria ai mondiali di calcio, un'elezione politica, una nuova serie di Stranger Things, ma le proteine sono a tutti gli effetti il mattone della vita. Hanno e svolgono le funzioni più disparate all'interno dell'ecosistema planetario. A loro volta questi mattoni sono composti da 20 lettere, come fossero le lettere in alfabeto, che sono tipi diversi di amminoacidi, in base alla quale composizione si genera una proteina dalla forma diversa. La proteina alla fine è una complessa struttura tridimensionale, la cui forma impatta sulla funzione. Esattamente, quindi, mattoni e amminoacidi, la loro sequenza crea una forma molto complessa, la cui forma ha un fortissimo legame con la funzione. Questo ambito di ricerca biomolecolare è talmente vasto, talmente articolato, che già nel 1972 il premio Nobel Christian Anfinsen postulò che, nota la sequenza di amminoacidi, si è in grado di stabilirne la forma finale, che ribadiscono a questo fortissimo legame con la funzione. Questo postulato, chiaro, cristallino, in realtà nei 50 anni successivi non è mai riuscito a essere soddisfatto. Migliaia dei più efficaci e capaci scienziati biomolecolari si sono cimentati con questo postulato, ma, data la sequenza di amminoacidi, nessuno riusciva a ipotizzare la corretta geometria finale. Al punto tale che questo ambito di ricerca così ampio, così impattante, è diventato oggetto di un premio in denaro per la comunità scientifica dedicato. Questo premio, stabilito nel 1994, si chiama CASP e segue con una logica molto gamification, se vogliamo. Il pool di scienziati, che è la giuria, conosce la geometria finale della proteina e ne conosce la sequenza. Consegna la sola sequenza di amminoacidi ai partecipanti e la sfida è restituitemi la geometria e io la raffronterò con quella che avevo proprio come riferimento. Azzeccare la soluzione, in questa logica, con un punteggio in centesimi, vuol dire superare i 90 centesimi. 90 centesimi è la soglia per la quale la somiglianza è considerata sufficiente. dal 94, ogni due anni, c'è questa sfida, che ovviamente ha delle tempistiche e una complessità estremamente elevata per raggiungere e definire questa geometria. Ma nessuno riesce a superare, anche il vincitore riesce a superare il 60%. Nel 2018, Google DeepMind, che è la divisione del gruppo che si occupa di intelligenza artificiale, inscrive, come fosse un partecipante, al CASP, AlphaFold. Il loro software, ovviamente basato su logica dell'intelligenza artificiale, dedicato a questa sfida. E già la prima edizione vince, raggiungendo un punteggio di oltre 70 centesimi. E è la prima volta che un software di questo tipo vince il CASP. Ma due anni dopo, AlphaFold vince nuovamente, ma questa volta raggiungendo l'incredibile punteggio del 92,4%. Questa è la notizia che vi voglio raccontare. L'impatto di questa notizia, ribadisco, è talmente ampio che non so neanche da che parte iniziale. Un primo aneddoto, uno dei più grandi scienziati di biochimica al mondo ha ricordato, in seguito a questo successo, che oggi AlphaFold riesce a dare la soluzione della geometria di una proteina in circa 30 minuti, facendo un lavoro che a lui, nella sua carriera, richiedeva circa 10 anni. Questa è l'accelerazione che si riesce a dare. Ora, con uno strumento di questo tipo, che quindi non ci dà una soluzione fatta finita, che quindi possa diventare il titolo dei famosi quotidiani, dei famosi giornali. In realtà, questo è una scatola di attrezzi che ci permette a questo punto di esplorare la definizione, la costruzione nel mondo delle proteine, che sono assolutamente tutto. Sono alla base di farmaci, vaccini, enzimi che magari un giorno potranno digerire in maniera più efficace la plastica, biomateriali che potranno andare ad assorbire spontaneamente l'idea carbonica. Ad oggi si stima che esistano circa 200 milioni di proteine, di tipi di proteine. In quest'immagine che vedete adesso, questo è il rapporto fra le proteine che si stima conoscere oggi il potenziale numero di combinazioni che le proteine possono raggiungere. Come vedete, è un universo tutto da esplorare e la potenzialità va a toccare i settori più disparati. Questa è una concreta, concretissima, potentissima dimostrazione. Uno, della capacità che l'intelligenza artificiale sta già avendo nella vita di tutti i giorni. E due, della capacità che oggi l'umanità, la comunità scientifica ha di, come una scatola di meccano, provare a cominciare a costruire in una maniera predittiva delle proteine che siano veramente in grado di andare ad ampliare gli servizi, le funzionalità che avranno di nuovo poi un grandissimo impatto nella nostra vita. Quindi, spero che vi abbia affascinato questo nuovo scenario, non più fantascientifico. Ovviamente vi invito a approfondire Alphafold, intelligenza artificiale e Google DeepMind, questo colosso all'interno dell'impero Alphabet. Ci vediamo alla prossima puntata.